Salve, salve, fuggi in ritardo, ma ero il telefono con la Casellati. Se non ci pensa Dio, ci penso io, è il nuovo spettacolo di e con Gene Gnocchi. Abbiamo bisogno di te, però stai attento che se tu non ce la fai potrebbe sostituirti anche Mario Draghi. E se Dio fosse una frequenza quantistica? Se davvero lo fosse, si potrebbe ingaggiare un elettricista in grado di trovare il canale giusto per comunicare con lui. Gene Gnocchi ci prova. Questa è Radio Maria, scusi. Questa è Radio Maria, guarda che io la rovino, io la rovino. Con la sua stralunata comicità, Gnocchi porta in scena le sue riflessioni, a volte sarcastiche, a volte amare. Cosa gli ho chiesto? Non voglio portare al mare mia suocera. Gli ho detto, fagli venire almeno un piccolo acciacco, la gotta. No, non l'ha fatto. Ho dovuto pensarci io. L'ho fatta cadere dalla bici, si è rotta il femore. Ma ho dovuto pensarci io. Siccome di questi tempi divertirsi non è assolutamente facile, questo è un osi per tornare a sorridere un po' dopo questi due anni assolutamente assurdi. Alla chitarra Diego Cassani, che punteggia lo spettacolo con brani storici della musica di ogni tempo. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Franco Parenti di Milano fino a domani. Sarà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma parentionair.it Bacca boia.